100.000 infettati E dall'altra parte del mondo Arriviamo noi, gli italiani Ieri mi sono imboccato in una live Penso sono rimasto a libido Ragazzi, a libido Da parole di certe persone Ci sono persone che dicono non succede nulla Stiamo parlando di un virus Di un'influenza Di una cosa che è come il raffreddore Che non ti fa nulla, non è letale Non è letale I primi sintomi ti arrivano dal decimo giorno Che tu sei stato infettato Da questo virus, cosa vuol dire questo? Vuol dire che per i dieci giorni precedenti Tu sei andato in giro, sei andato al lavoro Sei andato nei mezzi pubblici, sei andato A casa con tua madre e i tuoi fratelli Sei stato con la tua ragazza E se gli sei stato vicino, gli hai parlato Gli hai baciato, sicuramente Avrei infettato qualcuno Eccoci qua Al video che Non avrei avuto mai Voluto fare Non sarei mai Voluto arrivare a fare Passato circa Quanto? Un mese, un mese e mezzo Dal video che vi ho fatto Sul coronavirus Dalla live In cui ne abbiamo parlato Ed è successo Quello che non doveva succedere La gente Se ne è fregata altamente La gente non Non ha pensato minimamente Agli altri E di fatto I numeri stanno Stanno sbocciando Stanno crescendo sempre di più La prima cosa che mi fa Rotere altamente Non veramente tanto È di tutti quegli Streamer Youtuber Tra virgolette Che andavano in giro A fare live Dicendo di stare tranquilli Che non è successo niente Non succederà mai nulla Addirittura live Dove i titoli Erano Non ho paura Del coronavirus Beh oggi Molte di loro Hanno cominciato A cacarsi sotto Hanno fatto post In cui Dicevano di stare allerta Hanno addirittura Cominciato una quarantena Dentro Dentro la loro abitazione E a me L'unica cosa Che mi viene da dire È A voi Mezzi omeni Ma non vi fate schifo Siete come i giornalisti E gli avvolto State là pronti A cavalcallonda Da Vedete delle merce Siete Complimenti Avete mandato in giro Disinformazione Soltanto per farvi vedere Capito Per essere Diversi dagli altri E adesso invece Vestate a cacassotto Fateve schifo Merde Quindi ragazzi Non La cosa che io vi chiedo È non ascoltate Sta gente Che è uscita dal guscio Incoerenti Che non sono altro Dopodiché Oltre a questi Questi streamer Questi youtuber Arrivano tutte quelle persone Che Non Non è nulla Non è nulla Questo Questo virus Non è mortale Io non morirò mai È tutto ok Siete degli ingrati Siete veramente degli egoisti Perché Voi magari A voi non succede nulla Magari vi prendete il coronavirus Magari già lo avete preso E non avete riscontrato nulla Ma sapete che potete attaccarlo A decine di altre persone Magari ti prendi il coronavirus Lo attacchi a tua nonna Lo attacchi a tua zia Lo attacchi alla tua vicina Sareste contenti voi? Io sinceramente no Ed è proprio per questo Proprio questo è il motivo Per il quale Il contagio è avvenuto In una maniera così drastica Per tutte queste persone A cui non è interessato nulla Degli altri Quindi vi chiedo gentilmente Non siate come loro Non siate egoisti Oltre a pensare a voi Pensate agli altri Ovviamente non vi dico Di impanicarvi E rimanere sempre dentro casa Ma Rimanete comunque Il più possibile dentro casa Uscite soltanto Se è una cosa Strettamente necessaria E se lo fate Fate sempre attenzione E rispettate le regole Che ormai leggete Dappertutto Che ormai vedete in televisione Che ormai vedete Su internet e su youtube Rispettatele Io più di tutti lo faccio Io lavoro in ospedale Per chi non lo sa Proprio ieri Da me ci sono stati Quattro casi di coronavirus Oltre ai precedenti Che ci sono stati E questi pazienti Sono Hanno fatto un attack Proprio a 15 metri da me 10 metri Forse Io Più che dirvi Che è una cosa Grave Una cosa seria Non so Che cosa dirvi Io per la mia salute E per la salute Di tutte le persone Che amo Attento E rispetto queste regole Un'altra cosa Un'altra cosa Che sta succedendo In questo periodo Qualcosa che Io ritengo Veramente Assurdo Lo stato vieta L'entrata A tutte le persone Nei carceri Nelle case di cura Nei cinema E tutte queste cose Beh Tutti i familiari Dei carcerati Stanno creando il panico I carcerati Sono usciti dal carcere Sono scappati Dal carcere Io mi vergogno Alcune volte E così sono gli italiani Mi vergogno di essere italiani Sono state installate Queste regole Per far sì che il virus Non si diffonda E queste persone Non è che pensano Cazzo Magari c'è il virus Non lo so A me sta lontano Da mio fratello Da mio padre Che sta dentro Il carcere Che magari Gli attacco pure a lui E sapete che può succedere Se un carcerato Viene infettato Fatemi un'idea Fatemi un'idea Di tutti i carcerati Che possono Stare in galera Infettati E non Non avere cure Non avere cure Perché lì Serve Serve la rianimazione Servono cose Belle serie Se una persona Rimane gravemente Malata Da questo cazzo Di corona Però no No Gli italiani si mettono In mezzo alla strada A bloccare il traffico A creare il panico E addirittura I carceri riescono a scappare È qualcosa di vergognoso Ragazzi Mi dispiace dirlo È vergognoso Veramente Detto questo Arrivo al momento Più importante del video Ossia I posti letto Di rianimazione In Italia Sono limitati Ora non so Precisamente quanti sono Possono essere 4500 4700 Ora non ve lo so dire Ma se questi posti letto Finissero Ma Mi siete chiesti Che cosa potrebbe succedere Succederebbe che Ipoteticamente Un vostro caro Arriva in ospedale Per coronavirus Risulta positivo I posti letto In tutta Italia Sono finiti I dottori lo guardano Dicono No questa persona È troppo vecchia Non gli diamo il posto letto E rimandano Il tuo caro a casa Riuscite a capire Che cosa potrebbe succedere In Italia Se accadesse una cosa del genere La gente sta creando il panico Per Perché non riesce a vedere I propri cari nel carcere Figuratevi se mandano Vostro nonno A casa Affetto da coronavirus È proprio per questo Che vi dico Di fare attenzione Non per voi Magari siete giovani E avete bassa probabilità Di morte Anche se comunque Dovete stare sempre attenti Non tanto per voi Ma per tutti gli altri Per una buona volta Pensate agli altri Oltre che a voi stessi E così facendo Dimostreremo al mondo intero Che Saremo un grande popolo E da tale Lo sarà anche la nostra ricrescita Confino in voi ragazzi Non avete paura Non impanicatevi Ma abbiate giudizio Spero così riusciremo a battere Questo cavolo di virus Ciao ragazzi Alla prossima Un bacionetto Tuttle eclipsa E такое Grazie Ai Le Buo Spero Un bacionetto